Un viaggio immersivo tra reale e virtuale all'interno di cinque opere del genio dell'impressionismo Claude Monet. È la mostra Inside Monet presentata al Musa di Pietrasanta che si aprirà il prossimo 5 luglio per proseguire fino al primo settembre. Una passeggiata per le strade di Pietrasanta dotati di un visore virtuale che in cinque tappe stabilite proietta il visitatore all'interno delle opere impressione, papaveri, passeggiata, covoni ed infine lo stagno delle ninfee guidati da un narratore d'eccezione ovvero lo stesso autore. È Monet stesso che è il narratore Monet e tutti i testi sono stati ripresi da tutte le lettere che Monet ha scritto nei suoi anni di attività per cui diciamo non c'è praticamente nulla di inventato ma siamo riusciti a trasmettere poi allo spettatore finale quello che era il suo modo di vivere, di interpretare l'arte, di interpretare l'amore anche per sua moglie e la vita in generale. Un evento realizzato da Way Experience Startup Milanese specializzata nella realizzazione di contenuti virtuali e di realtà aumentata dedicate all'arte e ai suoi protagonisti e la cui proposta per la mostra è stata subito accolta con entusiasmo dal museo che proprio sulle esperienze virtuali fonda le sue radici. Dunque ho pensato che Pietrasanta fosse il luogo giusto dove portare una, diciamo come lo definiscono loro è un prodotto physical o full digital cioè praticamente che mette insieme la persona con una parte digitale importante dunque crea un'emozione in più. La realizzazione della mostra oltre che dalla Camera di Commercio e dal Comune è stata resa possibile dal sostegno della Mutuo BVLG la società della banca che si occupa anche della parte culturale ed artistica dell'istituto di credito.